Il mio nome è Elena, sono la moglie di Hamadan, i suoi genitori l'hanno abbandonato. Perché in tutte le parti, in tutti i posti che andava, anche nella sua ambasciata della Macedonia, e loro l'hanno cercato, hanno detto che non è stato mai registrato, per il motivo che la sua mamma l'ha fatto nascere e non l'ha mai dichiarato in nessuna parte all'Anagraff. Poi non è morto, è rimasto da solo, ogni tanto venivano i vicini, gli davano un pezzo di pane. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti uno l'altro, ci siamo rimessi insieme. E non mi interessava che non ha nessun documento a me prima. Si è realizzato quando abbiamo avuto primo figlio, perché ha realizzato che siamo una famiglia, non possiamo sposarci. Prima cosa è che è importante. Seconda cosa è che i figli non li ha mai riconosciuti senza avere i documenti. Li ho riconosciuti io da sola, come una ragazza madre. Senza i documenti pensano che forse li fanno qualche cosa di male o forse fa qualcosa di male e dice senza i documenti non possiamo farti nulla. se arriva qualche controlla di polizia o sulla strada che cammina ha paura che lo fermano, tante volte lo portano via. tante volte ha paura, ha paura dentro di lui. Quando si sente male lo porto io per garantire io per lui, per parlare io per lui, per sentire io per lui. Io sono tutto per lui e per i figli. Se mio marito può essere riconosciuto come apolite può fare tante cose belle per noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri videoli, Grazie a tutti